I sindaci hanno espresso tutti la volontà di fare una valutazione per distretti, quindi non per provincia, ma di guardare in maniera oggettiva i numeri nelle varie vallate, perché la situazione è dismogenea, e cercare il più possibile di mantenere le scuole aperte. È questo l'appello che arriva da Montevarchi dopo l'incontro tra i sindaci dei comuni del territorio ed il governatore Eugenio Gianni per fare il punto sull'emergenza sanitaria alla luce della crescita dei casi di Covid-19 registrata negli ultimi giorni e conseguentemente sui provvedimenti da adottare. La decisione del Presidente della Regione sull'eventuale zona rossa è attesa per il prossimo lunedì. Ad oggi nel Valdarno-Arettino l'indice medio è comunque sotto i 250 casi per 100.000 abitanti. Abbiamo a livello di Valdarno un'incidenza intorno a 244, quindi resta una delle vallate più sicure da questo punto di vista, però abbiamo visto comunque un'impennata da venerdì scorso dove i casi a Montevarchi erano 52, a Ieri stamattina sono arrivati a 85. Questo ci fa capire che qualcosa è cambiato, probabilmente legato alle varianti e siccome la diffusione di queste varianti è molto molto rapida ho cercato di agire concretamente limitando la situazione di bivacco o di assembramento. Sono stati chiusi i parchi, le piazze, quindi abbiamo fatto quest'ordinanza che poi prevederà i controlli non solo della Polizia Municipale ma anche dell'Associazione di Volontariato. È l'unico provvedimento che possa magari aiutare a contenere la diffusione senza incidere appunto né sulle attività lavorative né sulla scuola. L'obiettivo è quello di non chiudere le scuole anche a Terra Nuova Bracciolini, almeno sino a quando sarà possibile. Quello che sia io che diversi colleghi del Valdarno e non solo abbiamo detto al Presidente, abbiamo condiviso con il Presidente, è che laddove ci siano comuni che non superano questo parametro, si possa avere la possibilità di mantenere le scuole aperte perché per noi è indispensabile fare il massimo per favorire le lezioni in compresenza, l'attività didattica in compresenza. Tra i comuni del Valdarno a Retino che invece hanno superato la soglia critica dei 250 nuovi contagi settimanali, c'è Pergine Valdarno, un dato che ha portato il primo cittadino a realizzare un videomessaggio in cui spiega che c'è il rischio della chiusura delle scuole e che si tratta di un'ipotesi che come sindaco vorrebbe evitare. Sono già confrontata questa mattina con le nostre presidi, la situazione attuale dei presidi scolastici è sostenibile, faremo di nuovo una valutazione venerdì mattina per poi confrontarmi singolarmente con il Presidente Gianni e capire quali siano gli interventi più consoni a questo territorio per cercare di abbassare il livello di emergenza nel nostro comune.